L'associazione Le Torri, in sinergia con altri enti, ha voluto organizzare un incontro dal titolo Non sei sola. Ne parliamo con Maria Grazia Motisi, presidente dell'associazione Le Torri. L'associazione, insieme alla collaborazione di tanti altri, insieme alla collaborazione delle forze dell'ordine, delle scuole, di tanti amici che hanno voluto contribuire a quella che è la giornata internazionale contro la violenza delle donne, che vuole essere non solo un momento di riflessione, ma anche un momento speciale di ricordo di tutte le vittime di femminicidio che già oggi siamo a novembre, quindi in dieci mesi di questo anno, sono 114. Il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare le scuole attraverso la presenza dei ragazzi, ma anche noi adulti, perché molto spesso non siamo capaci di comprendere un campanellino d'allarme che poi può portare ad una situazione di violenza. E dire che denunciare è l'unica via possibile per potersene uscire e per poter riprendersi la propria vita in mano, perché quando un uomo, anche psicologicamente, perché sappiamo che la violenza può presentarsi sotto vari aspetti e sotto varie forme, vuole annientare quella che è la persona, la sua dignità, il suo essere nel mondo, allora bisogna subito contrastarlo e subito bloccarlo. Maddalena Pellitteri, psicologa del Centro Antiviolenza Diana, oggi una giornata importante per ribadire no alla violenza sulle donne. Per noi oggi è una giornata importante in cui vogliamo lasciare un messaggio alle donne che in questo periodo stanno vivendo delle situazioni di maltrattamento, di violenza, per dire che non sono sole, ma che nel territorio operano, sono presenti dei servizi che possono accogliere la loro richiesta di aiuto e accompagnarle in tutte le fasi per la fuoriuscita dal tunnel della violenza. Quindi non siete sole, ma c'è un contesto sociale che vi può supportare e accompagnare. In particolare lo sportello offre dei servizi di ascolto e sostegno psicologico alle donne vittime di violenza e anche orientamento e assistenza legale. Qual è il suo appello? Quello di denunciare, di rompere il silenzio e l'isolamento nel quale spesso le donne vittime di violenza si ritrovano, proprio perché c'è un contesto che può tutelarle, può supportarle e aiutarle ad uscire dalla violenza. Quali sono i dati che emergono al centro Diana? Purtroppo sono poche le richieste di aiuto e questa giornata per noi è importante proprio per sensibilizzare le donne a rivolgersi al nostro sportello, ma devo dire che ancora non c'è la fiducia nel potersi affidare, nonostante gli strumenti dal punto di vista legislativo o i servizi, manca proprio il coraggio di denunciare, di uscire allo scoperto, probabilmente, e questa è un po' l'esperienza che abbiamo fatto nello sportello, probabilmente questo è dovuto al fatto che non ci si sente pienamente tutelate. Loredana Baiesi, psicologa e psicoterapeuta della Gestalt. Lei durante l'incontro tratterà delle relazioni sani? Sì, io oggi in particolare mi occuperò delle relazioni sane, in un'ottica di positività, di speranza, anche di interesse. Spesso perdiamo di vista cos'è una relazione sana, spesso perdiamo, nemmeno sappiamo, i ragazzi di oggi nemmeno sanno che cosa ci deve essere, quali sono i criteri per rendere sana una relazione. In realtà esiste una grammatica della relazione, bisogna stare con l'altro e noi abbiamo bisogno di stare con l'altro, e per stare con l'altro abbiamo bisogno di individuare dei criteri che ci permettano di stare bene con l'altro. Mi soffermerò molto anche sulla sana aggressività, sul sano conflitto, perché c'è una differenza tra relazioni violente e relazioni in cui si può mettere in scena un conflitto sano, una sana conflittualità in cui io porto il mio punto di vista diverso da quello dell'altro. riconosco l'altro, ma prima di riconoscere l'altro devo riconoscere anche il mio vissuto, quello che io ho dentro e come io sto. Quindi in un'ottica di positività, in un'ottica di speranza, penso che il mio intervento finale è per individuare e distinguere le relazioni violente e le relazioni sane, appunto perché a volte dimentichiamo di soffermarci sulle relazioni sane, su cosa rende una relazione sana e il benessere familiare, relazionale e anche personale. Avvocato Antonio Passananti, oggi è una giornata importante doveva ricordato che una donna che subisce violenze non va lasciata sola. Senza dubbio, io ringrazio Maria Grazia Motisi per l'attività che ha organizzato oggi e mi sta facendo pensare una cosa bellissima, che è quella delle torri, perché ho visto che Maria Grazia Motisi rappresenta l'associazione delle torri. Se noi ci spostiamo e andiamo a vedere il gioco degli scacchi, vediamo che nel gioco degli scacchi sia la donna sia le torri hanno un ruolo fondamentale. Quindi se noi uniamo la torre e la donna possiamo fare pure scacco matto e io mi auguro che questo avvenga. Oggi io dirò le normative essenziali che regolano il nostro ordinamento giuridico sulla violenza sulle donne. Per fortuna ci sono stati degli inasprimenti di pena avuto riguardo a chi commette il reato, a parte la violenza di genere che sappiamo tutti che cos'è. Quindi abbiamo un inasprimento di pena soprattutto per quando c'è un rapporto di parentela stretta, è una circostanza questa aggramante. Quindi il marito che picchia la moglie, il marito che vessa la moglie perché la violenza può essere anche una forma di violenza psicologica, è soggetto a una pena che è aumentata. Addirittura ci sono casi in cui è previsto l'allontanamento dalla casa e addirittura pure il braccialetto elettronico. Quindi mettono il braccialetto elettronico al marito così in qualsiasi momento si va a capire dove il soggetto si trova. E questo nelle ipotesi più rilevanti, più eclatanti. Tengo a precisare un'altra cosa che ancora non sa nessuno, a certe volte neanche i colleghi avvocati. Le donne che sono vittime di maltrattamenti hanno il gratuito patrocinio. Il gratuito patrocinio significa che non devono spendere soldi per difendersi. Io invito anche i colleghi che ascoltano questo messaggio e che ancora non sono a conoscenza di questa normativa che è prevista la possibilità di non fare pagare niente alle donne che sono vittime di violenza. La violenza di genere si perpetua in tante manifestazioni. Oggi mi permetto di presentarvi innanzitutto i miei ragazzi a scuola del Danilo Dolci che sono da stimolo a tutte le mie iniziative sia sulla legalità che... Ora andremo a Bruxelles dal giorno 27 a 29 al Parlamento europeo, a maggio andremo a Roma perché abbiamo vinto un progetto sulla Costituzione italiana. Mi sono permesso oggi, in onore della donna, per essere proprio vicino alle donne che sono e sono state vittime delle violenze, mi riferisco anche alle donne della Bosnia che hanno subito delle gravi violazioni proprio dell'essere donna. Mi sono permesso di scrivere due righe per fare capire quello che io penso della donna e lascio alle ragazze appunto la parola. Anche quando il dolore annebbierà la mia vista non mi stancherò mai, uomo, di essere donna. Anche quando il mio sguardo volgerà verso il tramonto ricordati, uomo, della mia essenza. Io sono donna. Io sono spirito. Io sono amore. Io sono passione. Io sono armonia. Io sono carità. Io sono purezza. Io sono ossigeno e profumo. Io sono madre. Io sono madre. Madre dei tuoi figli. Ma anche tua madre. Io sono il tuo inizio ma tu potrò anche essere la tua fine. Ricordati, uomo, io sono donna, anima generante del mondo.